Io oggi ho presentato praticamente l'installazione di Postgres su Raspberry Pi e l'idea ci è venuta in mente guardando i vari blog sulla gente, cosa aveva fatto con Raspberry è stato fatto veramente di tutto e quindi ci siamo chiesti perché non installarci sopra Postgres e vedere cosa otteniamo alla fine il risultato è un piccolo database server aveva tutte le funzionalità di un server vero e proprio chiaramente tutto riscalato in piccola scala però ci siamo divertiti, l'abbiamo visto in funzione abbiamo presentato appunto stamani un po' di risultati abbiamo dato un po' di numeri e ci è piaciuto che la gente insomma sia interessata, sia avvicinata chiedeva pareri, ha consigliato anche altri tipi di prove da fare e niente, quindi ora ci hanno dato nuove idee e le metteremo in pratica l'idea diciamo base sull'utilizzo di Postgres con Raspberry Pi è dato indubbiamente dal suo piccolo costo tant'è che come prima idea ci era venuta appunto di poterli introdurre nel mondo delle scuole per poter appunto studiare il funzionamento di un database non solo a livello teorico non solo a livello di due o tre istruzioni SQL ma proprio a partire dall'SQL poter spiegare tutte le funzioni, tutte le operazioni che possono essere fatte su un database server quello che ci ha stupito è il poter gestire un database anche su una memoria SD